La nostra prima reazione quando sentiamo un cane abbaiare in lontananza è tentare di bloccarlo. Dopotutto un cane può iniziare ad abbaiare per una lunga serie di motivi, la maggior parte dei quali non ha nulla a che fare con gli esseri umani. Ci sono cani che abbaiano ogni volta che sentono il rumore del motore di una motocicletta in lontananza, altri che si agitano ed iniziano a fare rumore appena sentono il campanello suonare, e poi ci sono tutte quelle volte in cui i cani si abbaiano tra di loro. In rare occasioni, però, potremmo avere un cane che abbaia incessantemente anche se non è abituato a farlo. Se questo fosse il caso, potremmo iniziare a sospettare che il cane stia tentando di comunicare con noi. Certo, di solito è la nostra immaginazione che ha la meglio su di noi, ma ogni tanto sentiamo storie di un cane che abbaia per una buona ragione, avvisarci di qualcosa di cui non ci siamo accorti, e la storia di oggi è una di queste. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. La storia di oggi viene dalle Filippine ed è iniziata, appunto, quando un cane randaggio ha iniziato ad abbaiare senza sosta. Dopo un po', un motociclista di nome Junrel Fuentes Reviglia ha deciso di fermarsi per indagare sul perché il cane facesse tutto quel frastuono. Era sicuro che fosse successo qualcosa e che il cane stesse tentando di avvisare i passanti, ma lui era stato il primo a fermarsi e a dargli retta. Ma cosa poteva essere? Era una bella giornata, l'ideale per un viaggio in motocicletta negli altopiani di Sibonga, nella provincia di Cebu, e Reviglia si stava godendo la sua piacevole escursione in montagna. Eppure l'abbaiare di quel cane disturbava la quiete e l'uomo sapeva che c'era qualcosa che non andava. E per fortuna ha avuto la prontezza di fermarsi a controllare, perché aveva avuto ragione. Quel cane abbaiava abbaiava per un motivo e l'essere riuscito ad attirare l'attenzione di Reviglia ha salvato una vita. Quando Reviglia si è fermato per controllare il cane, l'animale ha cominciato a saltargli intorno, poi si è allontanato girandosi di tanto in tanto per controllare che l'uomo lo stesse seguendo. Alla fine, l'eroe a quattro zampe lo ha condotto in una discarica. Reviglia non capiva perché il cane fosse così interessato a quella spazzatura, ma nulla avrebbe mai potuto prepararlo a ciò che stava per vedere tra quei rifiuti. C'era un bambino, un neonato sdraiato per terra, solo e abbandonato, e nessuno si era accorto di lui. Non avrebbe mai potuto sopravvivere se non fosse stato per quel cane. Reviglia non ha perso tempo, ha preso in braccio il piccolo e sempre con il cane che li seguiva si è precipitato nella stazione di polizia più vicina per fornire al bambino l'assistenza di cui aveva bisogno. Era rimasto sbalordito e spaventato nel vedere un neonato in un luogo così remoto, soprattutto perché aveva solo pochi giorni di vita. Il dipartimento dei servizi sociali ha raggiunto in pochi minuti la stazione di polizia ed ha preso in carico il bambino, ma tutti rimasero sorpresi nello scoprire che il piccolo era vivo grazie allo sforzo di quel cane che aveva abbaiato per ore per tentare di salvarlo. Certo, questa storia non sorprese più di tanto gli amanti dei cani o degli animali in generale che sanno bene di cosa sono capaci questi adorabili angeli custodi a quattro zampe. Ne sa qualcosa anche la famiglia De Luca, la protagonista della seconda storia di oggi, che dopo aver perso il loro amato cane ha deciso di fare il coraggioso passo di adottarne un altro. Gli eventi che accaddero dopo ci fanno capire quanto sia importante essere consapevoli di cosa significa adottare un cane dal canile. Questi poveri animali vengono spesso da brutte situazioni e danno alle spalle storie tristi. Regalargli una seconda possibilità può essere un'esperienza molto appagante, ma la famiglia De Luca non avrebbe mai potuto prevedere quello che fece per loro il loro cane quel fatidico giorno. Adam e Dania De Luca vivevano a Tampa, Florida, con i figli Molly e Joy e il loro pastore tedesco Bailey. Bailey era sempre stato un membro importante della famiglia, così quando nel 2016 morì, i De Luca erano devastati. Dania fu quella che risentì di più della perdita, aveva passato momenti difficili durante la sua vita e Bailey le aveva sempre dato conforto. Il cane era sempre stato al suo fianco. Solo pochi giorni dopo la sua morte, Dania decise di reagire e adottare un altro cane, ma non sapeva che stava dando inizio ad una tragedia familiare che avrebbe segnato i De Luca per sempre. Scelsero di aiutare un cane che aveva bisogno di una casa, il numero di randaggi era sempre più alto e volevano fare la loro parte, così invece che a un negozio andarono al canile. C'erano molti cani lì e la decisione fu difficile, ma alla fine scelsero di portare a casa un grande pastore tedesco di nome Haus. Nonostante non si sapesse molto del suo passato, Adam e Dania non ci pensarono due volte a presentare il nuovo membro della famiglia ai figli di 7 e 4 anni. Adam aveva avuto qualche dubbio all'inizio, avevano scelto il cane giusto, avevano pensato bene a cosa stavano facendo. Non voleva che la fretta annebbiasse il loro giudizio, ma fu presto contagiato dall'eccitazione degli altri membri della famiglia. Dopo una settimana, Dania era felice e orgogliosa dei progressi di Haus. Il cane si era adattato molto più facilmente del previsto e sembrava essere già molto protettivo nei confronti dei bambini, specialmente Monny. Abbiamo tutti legato subito con Haus, racconta Dania. Era come se facesse parte della famiglia da sempre. Gli piacquero subito anche i nostri vicini di casa. Era destino. Haus aveva preso l'abitudine di riunire i suoi giocattoli sul prato e fargli la guardia. I De Luca erano tranquilli e sicuri di aver fatto la scelta giusta. Trovavano rassicurante che fosse così protettivo con la bambina e pensavano che fosse carino che raccogliesse a mucchiasse i suoi giocattoli, ma in meno di un mese avrebbero cominciato ad avere dei dubbi. Quella fatidica mattina, la nonna di Molly e Joy, la madre di Dania, era andata a far visita ai nipoti come accadeva spesso. Haus era con i De Luca da due mesi, quindi ormai nessuno si aspettava che succedesse niente ed imprevisto. Molly andò in cortile e il cane la seguì, come sempre. La bambina si piagò per raccogliere uno dei giocattoli di Haus e fu in quel momento che il cane cominciò a ringhiare. Adam sentì che stava succedendo qualcosa, si precipitò alla porta e si ritrovò davanti ad una scena che non dimenticherà mai, ma era troppo tardi. La piccola Molly era a terra, bloccata dall'enorme pastore tedesco sopra di lei. Poi all'improvviso il cane fece balzo in avanti e con la saliva che pendeva dalla bocca iniziò ad abbaiare contro la bambina, muovendosi verso di lei e indietreggiando. Adam e la nonna corsero lì quando sentirono un guaito che li fece rabbrividire. Il padre tirò su la bambina e l'abbracciò sconvolto. La nonna era spaventatissima, le tornarono in mente tutte quelle notizie di cani che all'improvviso perdevano la testa e attaccavano. Poteva essere questo il caso? Avrebbe dovuto fare più attenzione alla nipote e non avrebbe dovuto lasciarla uscire da sola. Erano forse stati tutti così traumatizzati dalla perdita di Bailey da non riuscire ad accorgersi di che tipo di cane era House. La nonna aveva una sola cosa in testa, doveva sapere se Molly stesse bene. Dopo avrebbero pensato ad House. Padre e nonna controllarono la bambina fino a quando non furono sicuri che non fosse ferita. Furono sorpresi di scoprire che la piccola non aveva neanche un graffio. Ma quando guardarono House, la nonna lanciò un urlo. Il cane non riusciva a tenersi in piedi, respirava con difficoltà e aveva la schiuma che gli usciva dalla bocca. Poi all'improvviso collassò. La nonna non riusciva a capire che cosa stesse succedendo. Poi lo vide. Un crotalo diamantino orientale, il serpente più pericoloso che puoi trovare in America. Grandi e con zanne molto lunghe, il morso di questi serpenti si rivela letale per un essere umano il 30% delle volte. E poi fu chiaro a tutti. House non aveva perso la testa e attaccato Molly, l'aveva protetta e si era sacrificato per difenderla. Ma quale prezzo avrebbe pagato? La nonna sapeva che dovevano agire subito. Quando si tratta del morso di un serpente ogni secondo può essere decisivo. Portò di corsa House alla clinica di pronto soccorso veterinario più vicina dove iniziarono subito la cura d'emergenza per il veleno. Quando il resto della famiglia arrivò, i De Luca ricevettero una notizia allarmante. House era stato morso ben tre volte, di conseguenza aveva in corpo tre dosi di veleno mortale. Il veterinario spiegò che di solito i cani si fanno indietro dopo essere stati morsi, ma poiché stava proteggendo Molly, House aveva continuato a combattere. Dovettero somministrargli in totale nove dosi di antidoto e gli servì una trasfusione, ma a quel punto un'ulteriore complicazione si abbatté sui De Luca. Mentre House lottava per la sua vita, il conto del veterinario aumentava esponenzialmente, fino a diventare insostenibile per la famiglia. Ma erano determinati a fare il possibile per il cane che aveva rischiato la vita per salvare quella della figlia. Così aprirono un account sulla piattaforma GoFoundMe nel tentativo di trovare i fondi necessari a coprire i costi delle cure mediche di House. L'obiettivo era 28 mila dollari e quando si sparse la notizia delle eroiche azioni di House sui social media, le persone rimasero colpite e i fondi iniziarono ad arrivare. Nel giro di pochi giorni i De Luca erano riusciti a raccogliere 51 mila dollari, quasi il doppio dell'obiettivo che si erano prefissati. Ora, insieme alla sua famiglia, c'erano migliaia di persone a fare il tifo per House. Doveva lottare per la sua vita con la stessa forza con cui aveva lottato per Molly. House riuscì a tornare a casa in una settimana. Fortunatamente aveva ricevuto l'antidoto in tempo. Ci sembra un miracolo, dice Dania. Siamo veramente felici. Dania ha anche aperto un profilo Facebook ad House per tenere i suoi followers aggiornati sulla sua guarigione. Ci chiedevano sempre come stava House, racconta nel 2017. Così ho pensato di aprirgli un profilo Facebook per tenerli sempre in contatto. Per fortuna House sta molto meglio. È sano, felice e amato e si è ripreso molto bene. Dopo essere diventato il volto del canile da cui proviene House, i De Luca aiutano i cani in difficoltà il più possibile. Sono iscritti all'elenco degli affidatari e hanno aperto la loro casa agli animali del canile in attesa di essere adottati. Per sempre grati a questi dolci eroi a quattro zampe per il loro affetto e il loro coraggio. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao! Ciao!